So, prendi questo! Vediamo cosa succede? Che cosa? Che è successo? Guardate! Guardate! Il padre di Rod! Si sta portando via Rod della suora! No! Evil Nun sta per raggiungere la fabbrica di Rod! Quindi può darsi che la suora sia nascosta da queste parti! Vediamo se riusciamo a vederla! Carissimi amici, è arrivato per il YouTube! E oggi torniamo a parlare di Ice Cream! Il nostro caro amico gelataio! Perché oggi andrò a vedere un filmato molto, molto importante! Un filmato che congiungerà Evil Nun 2, Ice Cream 3 e Ice Cream 4! Tutto quanto riuniti insieme! Non vedo l'ora di vedere insieme a voi questo filmato! Ma come sempre lasciate qui sotto tantissimi like! Veramente lasciate davvero tanti like! Perché il filmato che andremo a vedere sarà fatto molto, molto bene! Se i like che lascerete sarà pari, il personaggio che succede a voi sarà Evil Nun, la sua retta! Se invece i like saranno dispari, il personaggio che succede a voi sarà Joseph, il padre di Rod! Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggio è uscito fuori! Iscrivetevi al canale con la campanella attiva! Così anche voi farete parte della perinofebili! Ma adesso partiamo subito! Cominciamo! Voglio partire su Ice Cream 3! Perché voglio proprio creare una storia! Un anello di congiungere proprio a livello temporale! Una narrazione! Possiamo fare pure normale, non importa! E tocchiamo play si comincia! Si parte qua! Con questa nuova avventura! Versa la fabbrica di Rod! Ok! Gennaio 1983! Siamo qua! I due fanciulli! Beh, Charlie, Elise, sono sparete! Che poi alla fine abbiamo scoperto che non sono sparete! Ma vabbè! E quelli sono dettagli! Ormai sappiamo pure bene che fine hanno fatto! Ma io voglio fare un esperimento che non ho mai provato a fare! Prendo quella slimeshot! Quindi scendiamo subito sotto! Apri quella porta! Roddino caro! Preparati perché sto per venire da te! Sto per venire a prenderti! Anzi, in realtà sono io che mi sto per far venire a prendere da te! Ok, io soltanto riavito il gioco! Soltanto perché non compariva qua l'immagine del canale! Vabbè, sono dettagli! Prepariamoci qua la pozione segreta! Vai! Il gelato segreto di Rod! Vai, Jay! Come sempre, ormai con tutti sti gelati che ti sto facendo mangiare! Sarai diventato un gourmet di gelateria! No? A momenti ci vediamo pure Jay! Che si apre la sua gelateria! Vi immaginate veramente? Vediamo un finale segreto ambientato nel futuro! Dove c'è Jay che si mette a vendere gelate! Sarebbe veramente troppo bello! Troppo bello! Va bene! Adesso come possiamo vedere qua! C'è Jay che sta prendendo peso! Sì, perché è diventato un chubby boy anche lui! Ma ora voglio fare una prova! Voglio vedere cosa succede se io provo a colpire Rod con la slimeshot! Questo filmato! Perché non ho mai provato a farlo! Non ho mai provato a farlo! Ok, apri quella porta! Perfetto! Adesso prendiamo la slimeshot! Roddino caro! Preparati perché c'è un chubby Jay che vuole venire da te! Come stai caro gelataio? Come stai? Su, prendi questo! Vediamo cosa succede? Che cosa? Che è successo? Guardate! Ma avete visto? Avete visto? Se provo a colpirlo ancora non succede niente se mi avvicino qua? Non ci credo! Cos'è successo? Cos'è sta roba? Ma cos'è? Ma avete visto? Ma io ancora non capisco! Cos'è successo? No, no, seriamente! Se qualcuno me lo può spiegare! E fu così che abbiamo visto un Rodd volare nel cielo! L'ho colpito con la slimeshot! Più! E l'abbiamo visto volare! Spettacolare! Che bello! Qui intanto possiamo ammirare la vecchia gelateria del padre di Rodd! Chissà se su Ascron 4 quella vecchia gelateria è stata ripristinata ed è diventato il famoso museo di Joseph! Il museo appunto del padre del gelataio! No, comunque veramente! Com'è possibile una roba del genere? Io ho provato così per caso! Non sapevo che succedeva una cosa del genere! Ho detto proviamo così per esperimento! Prendiamo la slimeshot! Colpiamo il gelataio! E vediamo cosa succede! Io ho pensato che tipo reagisse facendo I suoi soliti versi! Invece abbiamo proprio visto Più! Volare in alto nel cielo! Ed è rimasto lì in alto! È rimasto lì sopra! E poi boh! È rimasto lì! E che possiamo farci? Ma nonostante tutto è riuscito a prendermi! E infatti adesso ci sta portando verso la tua fabbrica! Perfetto! Rod ci sta per accompagnare! Siamo quasi arrivati! Ma nel frattempo durante questo viaggio Sta per accadere un avvenimento parallelo! Perché mentre verso la fabbrica di Rod E Rod ci sta portando appunto lì dentro Nel camping si sta per avvicinare un altro personaggio! La sua retta di Volnan! Sta andando dritto verso quella croce! E lì adesso stiamo proprio capendo bene Adesso i motivi del perché sta tornando di là! Ma lei è contenta! Finalmente! Finalmente può riabbracciare suo figlio! È contenta! Il suo figlio prezioso! Lo potrà rivedere dopo tanto tanto tempo! Dopo tanti anni! Ma di per sé! Cos'è successo realmente? Perché la suora può rivedere adesso il figlio dopo tanto tempo? Lo scopriremo in questo filmato! Fanmade! Che è stato fatto appunto dallo stesso creatore Che ha fatto il gioco di Ice Cream 4 Che abbiamo visto la volta scorsa! Siete pronti? Siete pronti? Lo andiamo a vedere adesso! Ecco qua! Il filmato è stato fatto da A12 Che è lo stesso creatore Che ha fatto il gioco di Ice Cream 4 Quello che abbiamo visto la volta scorsa! E fidatevi! È un filmato molto molto bello da vedere! Molto molto interessante! Comunque per chi fosse interessato Vi metto qui sotto in descrizione Il link del filmato completo! Del filmato originale! Così se volete vederlo Potete vederlo in totale tranquillità! Ma adesso tocchiamo play! A 12 infatti! È il creatore di questo filmato! Colui che ha fatto questo filmato! Possiamo vedere lì la suora! Che è tutta quanta in questo modo! Il gioco è ambientato quando Rod è già nato! C'è il filmato ambientato dopo! Ed è venuto Joseph! Joseph Sullivan! E la suora dice Vuoi portarti via Rod con te? E Joseph sì! Lui è venuto apposta Per portarsi via Rod! E la suora dice No ti prego! Non portarlo via! E sì perché La suora vuole tenersela! Guardate! Il padre di Rod! Si sta portando via Rod della suora! No! È solo che la suora Non può uscire! Non può uscire fuori! Infatti come ben sappiamo Sister Maddala Non può abbandonare la scuola! Non può andarsene via! Perché ovviamente Lei è sotto il contratto Sotto il patto di Nasrath Se lei dovesse lasciare la scuola Per almeno 40 anni Eh Rod potrebbe fare una brutta fine! Ma potrebbero succedere anche Tante tante cose brutte! Anche perché in realtà Una cosa brutta succederà Se la suora Sister Maddala Da quello che noi vediamo su Evil Nun 2 Diventerà appunto Quella che conosciamo su Evil Nun 1 E poi ancora diventerà Quella che abbiamo visto nel filmato precedente! Quindi vabbè Proseguiamo! Vediamo come va avanti questa storia! Sono molto curioso! Ok la suora sta continuando a pregare Però le manca! Sente la mancanza di Rod! Le vuole il suo caro figlio! Cosa succederà mai? Ok qui gli anni passano Ok 1955 Quando è morto il padre di Rod 1962 Gli avvenimenti di Vol Nun 1 1965 Quando Uuuuh La suora! E vai! Finalmente può uscire! Per rivedere Rod! Guardatela lì! La suora ha abbandonato la scuola! Dove starà mai andando? Dove sta andando? Sta andando dove c'è la fabbrica! Guardate! Evil Nun sta per raggiungere la fabbrica di Rod! Spettacolare! Bellissimo! E ora cosa succederà? Entrerà mai dentro? Ah ok La location school usata! Ah ok Qui ci sono tutti quanti i crediti! Questo era un filmato fan made Fatto da A12 Invece nel frattempo Cosa sta succedendo? Mentre Rod ci sta per accompagnare All'interno del suo garage Nel frattempo succede anche questo Prima che la suora arriva Dove c'è la fabbrica di Rod! Eccoci qua! Rod ci sta per portare dentro! Non vedo l'ora di poter girare All'interno di questa fabbrica! Io veramente non vedo l'ora! Cercherò di essere Tra i primi A portarvi il gameplay di Escro in 4 Proprio appena uscirà Preparatevi perché io farò uscire il video Appena uscire il gioco Quindi spero che non esca a mezzanotte Altrimenti Sarebbe un problema Far uscire un video a mezzanotte Sarebbe un serio problema Ok Stiamo per entrare dentro il garage Wow! Ma che bello! Che bello! Io sono veramente curioso di poterci girare Sono veramente curioso Eccoci qua Stiamo per entrare dentro la scuola Sì vabbè che scuola ormai qua Di scuola non ne vedremo più Fino a... Non lo so Fino a quando faranno Ivo Nan 3 Ma siamo dentro la fabbrica di Rod Una fabbrica Veramente molto molto interessante Che nasconde Tanti segreti E intanto ci ha portato all'interno Della stanza delle gabbie Non so come chiamarla sta stanza Una stanza dove ci sono tutte quante le gabbie Con tutti i nostri amichetti Ma che bello! Che tra l'altro Il personaggio che noi potremmo usare All'interno di Escro in 4 Non è detto che sia Jay Potrebbe esserci la possibilità Che noi usiamo tutti quanti i personaggi Tutti quanti riuniti insieme Ma che bello! Sì Rod Tu parla Tu parla Tanto Ormai sappiamo bene quello che dice Che presto ci prenderà Ci spremerà per bene Per fare il gelato completo Ma andiamo oltre Andiamo dopo questo filmato Arriviamo direttamente al gameplay Tra l'altro breve parentesi In tanti mi hanno chiesto Come scaricare La versione di Escro in 4 Che ho portato nel video scorso Voi andate in questo canale Che si chiama A12 Che sarebbe A12 Andate su video E andate in questo video Che si chiama Escro in 4 free download Lo cliccate Dopodichè Andate in descrizione Dovete toccare qua il titolo E vi compaiono qua i titoli Tipo Google Drive Yandex Disc Oppure Mediafire Toccate uno dei tre link E potrete scaricare Il gioco di Escro in 4 Così potete averlo Scaricare il pacchetto a PK E potrete giocarci pure voi Ok Dentro la fabbrica di Rod Vi ho portato il gameplay di questo gioco La volta scorsa Però come abbiamo visto Il creatore di questo gioco Ha fatto quel video con la suoretta Quindi può darsi Che la suora sia nascosta Da queste parti Vediamo se riusciamo a vederla Chissà dove potrebbe trovarsi Comunque a breve Ci sarà un nuovo aggiornamento Di questo gioco Dove aggiungeranno Dei nuovi oggetti Nuovi elementi Ad esempio Uno mi sembra una sorta di calice L'altro invece Non mi ricordo bene che cosa sia Comunque non vedo l'ora Quindi ci saranno anche nuove stanze Quindi anche questo gioco Verrà aggiornato Anche questo fan made Di Escro in 4 Ma che bello Stiamo girando qua dentro Chissà quali segreti scopriremo Nel nuovo aggiornamento Chissà cosa potremmo scoprire Uè Mini Rod Buonasera Come stai? Come stai Mini Rod? Tutto bene? Tutto bene? Mi fa piacere Mi fa piacere che sei così impegnato Così felice Di lavorare per questo gelataio Ok vediamo qua dentro Che cosa c'è Qui c'è il museo di Joseph Il museo del padre di Rod Spettacolare Che bello Che bello Che bello Va bene Io allora direi di fare una cosa Andiamo qua in quest'altra stanza La stanza segreta Di questa fabbrica Velocemente Apri qua la porta Su su muoviti Muoviti Andiamo qua Apri anche di qua Veloce Saliamo 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 Veloci 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 Andiamo di qua Ok E ci troviamo dietro la stanza segreta Dove c'è il macchinario di Rod E qui davanti Quindi che dire Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere di cosa ne pensate Di tutta quanta questa unione No? Abbiamo visto Il filmato dove Rod Ci acchiappa E ci porta verso la fabbrica Il finale Il filmato dove Lo suora Esce fuori dalla scuola Dopo tanti anni Per poter raggiungere suo figlio E il filmato dove Rod Ci porta poi all'interno Di Nella sua fabbrica stessa Quindi con tutte quante le gabbie Insomma il trailer Di Escrime 4 Che molto presto Uscirà Il 28 maggio Preparatevi Mancano solo pochi giorni Mancano meno di 20 giorni Quindi che dire Il video finisce qua Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Che dividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo Nel prossimo video E come sempre Vi auguro una buona giornata Buona giornata E una buona notte Ciao a tutti E buon panino a tutti